Sono stati trovati residui di sostanze stupefacenti, ashish e marihuana nel corso di un controllo da parte dei carabinieri e legio scientifico Alessandro Volta. Erano rima sugli dispinelli, fiutati dal cane orche, il nome del pastore tedesco che coadiuva il nucleo cinofili che è arrivato da Palermo in supporto del nucleo operativo radiomobile Nisseno. Sono stati trovati nel bagno delle donne dove il segugio ha portato gli uomini dell'arma. I controlli ci sono comunque stesi alle aree interne ed esterne dell'istituto.